90 secondi challenge, ovvero noi atterriamo in una città, nel momento in cui i nostri piedi toccheranno il suolo partiranno 90 secondi che decideranno che cosa potremo utilizzare per tutto il game Noi dopo quei 90 secondi potremo prendere bende, cure, questo genere di cose, ma le armi che potremo utilizzare saranno soltanto quelle lootate in quei 90 secondi Non credo sarà proprio easy fare Allora 90 secondi secondo me volano molto in fretta, quindi c'è il rischio di ritrovarti tipo con una pistola, una mitra di tasse di enziato e un pompa brutto Cioè robe del genere Allora, per di più non va bene una location dove si fighta, perché se perdi tempo a fightare, non lutti in 90 secondi Ovviamente, ovviamente Quindi io ti direi un fatal feels Ok Non lo so, non so se è la scelta giusta, eh, in una challenge del genere, perché forse qualcuno c'è lo stesso, però Proviamo Dobbiamo andare Per forza Ho paura Carini signora Lo so, Fede, lo so Ma anche carino il parco giochi, no? Bella, sì, Steph, l'abbiamo provata così tanto Raga, non so quando uscirà il video, però oggi, in questo momento, è venerdì Noi stiamo aspettando da mercoledì come tutti voi, ma sta modalità non arriva più Quindi ci scherziamo per quello Siamo tutti molto tristi Magari questo video uscirà che la parco giochi è uscita da 10 giorni E speriamo, porca miseria Ma noi stiamo pubblicando un sacco di video fighissimi con la parco giochi Quindi, chissà Allora, sono pronto a far partire il cronometro Allora, c'è qualcuno? Eh sì, mi sembra un team Mmm, davvero? Sì Allora, uno sta arrivando da questa parte Ok Io vedo in questa cadupola qua Ma, Steph, non riusciremo mai a luttare Cioè, questo è un posto poverissimo di lutto In più ci tocca pure fightare Sì, lo so, non è andato bene Vabbè, sono partiti Stai mettendo il timer o qualcosa di genere? Sì, sì, è già partito il timer, Fede Ok, mitraglie Ovviamente le munizioni e tutte queste cose le potremo continuare a luttare Beh, no, certo, certo, ho capito Ok, un pump, non male La pistola, vabbè, me la prendo per disperazione Che succede, Steph? C'è un player Ok, dove sei? Dentro la villa Ah, non posso perdere tempo con te, accidenti, oh Giù Non so se sparano a me No Sto entrando in casa, Steph Dov'è, 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 dov'è Ok Ok Cavolo Avete Preso tutto Occhio che arriva altra gente, secondo me Volevo le M16 blu Ok Allora, credo che siano morti tutti Secondo me non si deve contare il fight Cioè, 20 secondi in più solo per il fight Almeno 10 10 te li posso dare Dai, perché è ovvio che se sei impegnato Be fast Vado, sto correndo Hai molto poco tempo, eh, te lo dico Lo so, lo so Come mai che non trovo una ceppa Dai, mi serve almeno un fucile d'assalto Asalto uno Uno, mi prego Ah, il fucile d'assalto ce l'ho io Io non ho il pompa Io ho un pump verde Beata Bruttissimo Eh no, verde non è che sta così forte Ragazzi, mi sono già reso Quindi non sto più Luttando per quel Non c'è altro Non c'è altro Finita per me È finita Tempo scaduto, ragazzi Tempo scaduto, raga Non potete più luttare armi Solo munizioni Shield E quelle robe Ok Vieni qua Dittemi che avete trovato qualcosa Io ho fucili d'assalto Oh Allora Le M6 di ciblu ce l'ho anche io Infatti vendo il mio verde Io devo prendere O la mitraglietta O il cechino Vabbè, se me lo danno io lo prendo Dai, prendo la mitraglietta Eh, l'ho buttata Ok Non lo so Però mi sento in colpa D'aver preso le M6 Forse no Ne avevo una Ah, ne avevo un altro Per quello me l'ha dato Ok Ok Sentivo in colpa Siamo poveri Non voglio tenere tutto io Però ci sta, dai Adesso dotiamo Munizioni, materiali Eh Shield Tutte queste cose Allora, io ho Allora, un M6 di ciblu Un pump verde Una pistola grigia Ok Perché ho detto Se magari non trovo altro Non è una pistola Ok Un chuck jug e delle granate Non posso prenderlo Appena tratta il pump E Player, player, player Nordest Li vado addosso Ho visto uno con skin Da coniglio Ti sto seguendo Andrà malissimo Comunque, Steph Sì, io no Non lo pompa No, andrà davvero male Peggio Non credo possa andare Cioè, almeno col fucile d'assalto Ci sta Perché sono messo bene Ma il resto Non ho neanche esplosivi Tre granate Che poi almeno Me le posso continuare a prendere Dov'è? Nella casarotta? No È dietro questo furgone Dietro questo furgone Non sprecarle Ha rimbalzato troppo A terra Però stava sparando a qualcun altro No? Dici? Boh No, forse come mi ha fatto danno Ovviamente la cosa Puzzolente Quindi bla 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 Ok Uh, bene le puzzolenti Colpi Colpi Le puzzolenti le possiamo prendere Sono granate Non sono armi Quindi va bene Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Allora Faccio così Perfetto Allora Munizioni qualcosina ho guadagnato Materiali ne ho pochi Sono full shield Che è quantomeno positivo Io mi sa che mi bevo il chuck jug Per andare full shield Cioè ne ho proprio zero Ci sta Aia Ok, uno comunque fuori zona Ho pochi colpi Non voglio esagerare 31 di shield tolti No più shield Bello Hitato un po' Ok Quello è nato Quello è nato Ne manca solo uno Occhio eh Che non ci prendono alle spalle E robe del genere Ricarico Ok Hitato tre volte 5, 5, 5 Ok 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 Cos'è quella roba leggendaria? Cosa che non possiamo prendere Pere è uno scar leggendario Vabbè loro stanno Stanno andando eh Mi sa che li seguono Penso che essendo in due Non l'hanno ucciso scusami Ho letto male L'hanno ucciso? Forse non l'ho letto io Steph No, non l'ho letto io Sì Ok, è morto vero? Sì Ok, l'avranno già lootato Andiamo Ah, quante belle cose C'era un tattico verde Io adoro Pere C'era uno scar leggendario Uno alla vostra sinistra Dentro le miniere L'ho demolito Ha un HP Tolto un sacco Quindi quello dovrebbe Facelo Nat easy Io ho tolto 30 di shield Quindi se lo fa sicuramente Nat Ok Mi sa che li abbiamo uccisi? Sì, mi sa di sì Ok Uh, di nuovo E vabbè c'è un altro scar Un sacco di fucili a pompa Il tattico blu Però questo li posso prendere Ha detto che al campfire Perfetto Ok, andiamo Li vedo Aspetta che salgo Era un po' indietro Perché stavo Luttando nella casa Uh, cavolo Sono arrivata Ma presto Hai sentito Quell'headshot 45 Ah, c'è un altro Steph Alla sinistra Nord-est Eh, nord-est Cioè, destra Scusami 60 gradi Guarda, sta costruendo adesso Non è lo stesso Che stiamo mirando Ora sì Io credo che siano Minimo due Forse tre Sì, sono due C'è un altro pro lì dietro Quindi fai attenzione Che l'ho visto nascondersi Dietro la collinetta Ok Ok, ok Aspetto che sbuchino Non posso fare molto Andiamo se riesco a prenderli Eh, infatti Hmm Arrivare ci arriva Ma che Mi sono confuso Cioè? Volevo tirare Questa E invece avevo tirato l'altra Ah, ok, vabbè Hmm, peccato Colpito 49 di shield Tolti Hai fatto headshot? Eh sì Good job Proprio appena sbucato Sai che secondo me sono tre Dobbiamo anche muoverci Perché Diventa rischioso Altrimenti Ok, una giù Ok Secondo me sono due Non vorrei di fesseria Ma ne ho visti due Pronta? Sì Arrivo Opla No Dov'è? Di fronte a noi Quanti cavolo di mazza Io non ho i colpi Per distruggere le strutture È quello il problema Sono fermo Eh, manco io Manco io Che lo servo Ok, un bel po' di shield Bravino ma Colpito 30 di vita Ok Ok, morto Vado a restare l'altro Ok, perfetto Dragon Sono ricco Ok, ci sto pensando nato Sono ricchissimo Chi hai trovato? Un botto di colpi Le miei 16 Quanti ne hai tu? Quanti ne hai tu? Quanti ne hai tu? Vieni Ah, lanciarazzi Che rosi Che non poterlo prendere Dov'è la porta? Dove l'avete fatta? No, non c'è la porta Ah, faccio Mi vedi? Sì Tieni 160 Vanno bene? Sì, sì Va benissimo Ok Ah, grazie Eh, vabbè Quanti ne aveva? Ne ho 700 Tieni No, la zona La zona, la zona La zona Via, via, via Ma siamo scemi Ebbè, ci stavamo pensando A dare Eravamo felici Per aver trovato colpi Perché anch'io Non avevo niente per distruggere Quindi ho dovuto combattere Cioè, ho dato qualche colpo Ovviamente ho dato una mano Però Non potevo stare E costruzione a 15 Vedo Tieni, Fede Sì, dietro di me Sì Thank you Ah, che bello Un po' di respiro 2-22 Di vita Ok Il, raga Dove? Qui da noi, 60 60, 60 Uh Ok Arrivò Molto vicini Ok Minimo 2 Ok Minimo, minimo, minimo Minimo 2 C'è il dragon proprio lì Impavilissimo Sì, perché lui ha un po' di armi Per andaremi lì Eh, ci sta Tanto noi lo copriamo Da dove? Dalla montagna Mi sta proprio lì E ti dovevi coprire da lì Perché c'era uno No, mi sono coperta Pensavo bastasse Evidentemente no Andiamo, andiamo, andiamo Stanno lasciando Quindi seguiamoli Ok, vai tranquilla Sì, comunque ci sparano dalla montagna Sì, noiose Eh, vabbè Fanno bene No, certo che fanno bene Che succede? Morto? Ok Dov'è l'altro? È lì sotto, vero? Non sembra Non lo so È scomparso Hai delle band o qualcosa del genere, no? No, però puoi aprire questa airdrop sotto di noi Ah Vieni Qui sta Vado Vado, 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 vado Ti avevo fatto la discesa Allora, adesso il casino è che abbiamo gente a distanza Eh, lanciare a zi leggendario Che rosa Eh, vabbè E shill? Eh, shilldini Ok Quando volete ho un trampolino Ok Ok, non male Anche io uno Servono cure a ferie se avete qualcosa Io ho un campo Ho un campo Ok, allora mi sa che ti si avvicina e lo usate Ok Siamo fuori zona Ok, ci dobbiamo spostare, quindi? Sì Ok, andiamo Uh No Cavolo Peccato Ci sono quelli nella montagna che sono proprio messi bene Ok Ho dato un po' di copertura Cerco di dare una mano pure io Secondo me per di più c'è qualcun altro Pensate Cosa? Pensate, secondo me c'è pure qualcun altro Ma che secondo me? Che secondo me? Però loro nel caso sono solo due Vuoi farla una follia? No, beh, in effetti dovrebbero essere solo due, sì Siamo in sei, quattro noi Seguimi va Ok, vai Steph, tu però non hai armimi lì, eh Lo so Per quello è una follia, altrimenti era easy Porca miseria, devi dare tutto a me Guarda che ci distruggono tutto Muoviti Sono due qua, sì Ah, mi hanno buttato giù Dai, dai, è finita È andata GG GG Ha funzionato, dai Almeno abbiamo accorciato il fight Non volevo stare lì, eh A cechino, contro a cechino Noi non avevamo il cechino Comunque, dai, non è andata male Pensavo peggio Anche perché abbiamo fatto 15 kill Ah Quindi Non me l'avevo accorta, non le ho contate No, però ci sta, dai Pensavo peggio con le armi Trovate così Sì Con i 90 secondi Con tanto di fight iniziale Invece ho andato bene Ci è andata bene con gli M16 Preventemente quello In ogni caso Ci fermiamo così Challenge superata Con i 90 secondi ce l'abbiamo fatta Sarei curioso con i 60 secondi Se è fattibile Sarei davvero curioso In ogni caso Credo che dipenda molto Dal trovare un M16 Se trovi l'M16 Se giochi bene E non trovi qualcuno di fortissimo Gliela fai E in questo caso Quindi infatti ce l'abbiamo fatta Qua sotto altri video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao